6 milioni di euro per l'efficientamento energetico delle imprese di Marche e Toscana è l'opportunità offerta da Estra. 6 milioni di euro per l'efficientamento energetico delle imprese delle regioni Marche e Toscana. È il bando presentato ad Ascoli, da Estra, che opera nella fornitura di gas naturale, GPL ed energia elettrica. Si chiama Call for Energy Saving, un progetto rivolto ad operatori del settore dell'industria e del terziario, comprese le associazioni sportive e titolari di impianti. L'unico intervento per trovare altre risorse dentro i processi produttivi è una vera iniziativa sul piano dell'efficienza, delle sostituzioni degli impianti. Spesso gli imprenditori sono combattuti rispetto a questo tipo di interventi che sono anche costosi. Estra interviene in quanto ESCO, con un profilo giuridico particolare, che si assume anche il rischio imprenditoriale, anticipando questi denari, questo investimento, che poi andrà a recuperare nell'ammortamento in bolletta. Una opportunità importante per ridurre i consumi è limitare le emissioni inquinanti. L'azienda interessata può candidarsi e una volta selezionata riceverà finanziamenti con una copertura minima dell'80% per efficientare il proprio impianto. Inviare la propria candidatura è semplice. Abbiamo dedicato una pagina internet del nostro sito dove è possibile scaricare la nota informativa, il regolamento molto easy e ancor più la scheda di partecipazione. In pratica c'è semplicemente da riempire una scheda di partecipazione dove l'imprenditore, eventualmente supportato da un proprio consulente, sceglie la linea di intervento che reputa più remunerativa e necessaria per il suo processo produttivo. Ci invia qui pochi dati che all'interno della scheda sono richiesti per quel tipo di intervento e noi la riceviamo per mail e la valutiamo. Le proposte vanno inviate all'indirizzo impresaverde.it Il bando, aperto i primi di maggio, scade il 15 settembre, ma è bene non aspettare gli ultimi giorni perché si rischia l'esaurimento dei fondi. Da pochi mesi Estra Public Company ha acquisito Piceno Gas, che era una municipalizzata. La Estra è un gruppo che però continua ad investire per il territorio. Si impegnerà nella prossima edizione della Quintana, nella Notte Bianca del 10 agosto. Siamo nella sala della Pinacoteca di Ascoli dove grazie a Piceno Gas Estra abbiamo potuto allestire una mostra che è un po' l'evento culturale, vorrei dire non solo dell'anno, ma del quinquennio. La mostra su cola dell'amatrice che già sta facendo segnare dei risultati straordinari che sono estremamente utili per le attività commerciali e distributive della nostra città, ma potrei ricordare come il Festival Cinesofia, come il rilancio dell'antico teatro del Filarmonici che stiamo restituendo alla città in questi giorni potrà confidare su questo apporto. La mostra di cola dell'amatrice ha registrato 5.700 visitatori da marzo. Investimenti importanti per una città che ha deciso di puntare su cultura e turismo per crescere ed uscire dalle tante difficoltà create dal sisma.